Penso che la modalità didattica proposta in questa attività di challenge sia molto interessante perché infatti le lezioni sugli argomenti di interesse non sono state molte ma sono state soltanto quelle necessarie a dare una visione globale sull'argomento di interesse e a dare la possibilità a noi studenti di sviluppare i nostri spunti e le nostre idee. Personalmente io ho scelto la challenge perché mi interessavano molto gli argomenti proposti e quindi volevo svilupparli da un punto di vista più pratico, quindi conoscerli in una maniera diversa rispetto a come le avevo conosciuti nelle lezioni universitarie. L'attività di challenge è stata molto utile nell'imparare a parlare davanti a un pubblico esperto, anche in lingua straniera, a parlare soprattutto del mio lavoro ma anche a rispondere a delle domande, quindi difendendo le scelte compiute. Mi ha reso sicuramente una studentessa più pronta al mondo del lavoro.